Berrante doppietta nel 4 a 2 contro il Capistrello non era assolutamente una partita semplice, i marsicani venivano da 5, risultati utili consecutivi, è stata una partita molto fisica e comunque combattuta fino alla fine. Sì sì, abbiamo fatto una grande partita, siamo di sotto, abbiamo avuto la forza e il coraggio anche di andare a prendere e di rimontarli e poi abbiamo avuto qualche disattenzione che abbiamo avuto un cappareggio e poi siamo vicinamente da dentro. Non abbiamo bisogno di come fare, di questi due minuti, perché dobbiamo andare a riacchiamare, dobbiamo aggrapparci il più presto possibile, con un'improbabilità dobbiamo riuscirci. Si è entrato nella ripresa e hai messo la sigla due volte, spesso anche i grandi giocatori entrano e mettono la sigla. A chi vorresti somigliare dei giocatori magari di serie A che usano fare così? No, guarda, io non mi ispiro a me dei giocatori, mi ispiro a ragazzi giocatori comuni come magari Florenzi, si sa che non è in banchina, ma non è in banchina, ma non è in banchina. Sono andato dalla banchina perché mi sono andato a riposare, mi stendendo alla fiducia e mi arrivasse in campo, mi arrivasse in campo e mi dimostrato di essere ciò.